Perché abbiamo così paura di cambiare? Perché è così difficile cambiare? Io stessa ho passato diverse fasi della mia vita dove avevo difficoltà a cambiare delle abitudini vecchie ma quando ho compreso quali erano le abitudini disfunzionali alla mia vita, al mio benessere e alla mia persona in realtà ho iniziato piano piano facendo un processo e delle piccole azioni affinché potessi cambiare quelle abitudini vecchie e trasformarle in abitudini nuove quindi in realtà il cambiamento è trasformazione ed è assolutamente sempre in evoluzione noi siamo degli esseri umani in evoluzione, siamo su questa terra e in realtà stiamo facendo il nostro viaggio per migliorarci per evolverci e passare sempre a degli step successivi quindi se io rimango vincolato e intrappolato in abitudini vecchie rischio in realtà di resistere al cambiamento ma resistere al cambiamento non è mai funzionale perché rischia veramente di crearmi una bolla di confusione di depressione e di stati emotivi negativi dove passo tutta l'intera esistenza in una condizione di semplice sopravvivenza quindi capisci quali sono le abitudini che non ti fanno bene quelle abitudini vecchie che ormai sono veramente diventate degli automatismi e piano piano inizia ad associare a queste abitudini vecchie una piccola nuova abitudine affinché quella nuova abitudine prenda spazio, prenda costanza e tu acquisisci la determinazione di portare questa abitudine nuova, funzionale per il tuo benessere per la tua persona nella tua nuova vita Siamo fatti di cambiamento, biologicamente siamo fatti per invecchiare l'invecchiamento è il peggioramento se io vorrò vivere in realtà una vita migliore devo abbracciare il cambiamento e fare questo processo di trasformazione che mi renderà un futuro sicuramente molto più soddisfacente e molto più ampio e molto più ricco di quello che è ora Mara Mussoni, coach e formatrice aiuto e affianco le persone dando gli strumenti pratici affinché possano riprendere la loro vita nelle mani seguimi nei miei canali Facebook, Instagram e LinkedIn e se vuoi maggiori informazioni come acquisire consapevolezza attraverso un metodo specifico che ha aiutato tantissime persone contattami in privato